saluto i pellegrini di diverse nazioni che ieri qui a roma in san giovanni in laterano hanno partecipato alla beatificazione del sacerdote francesco maria della croce fondatore eccolo fondatore dei religiosi salvatoriani e delle religiose salvatoriane e lì e lì fu un instancabile annunciatore del vangelo utilizzando ogni mezzo che la carità di cristo gli ispirava il suo zelo apostolico sia ad esempio e di guida a quanti nella chiesa sono chiamati a portare la parola e l'amore di gesù in ogni ambiente un applauso al nuovo beato c'è l'icona qui davanti